Eccoci, ciao ragazzi, abbiamo avuto un po' di problemi tecnici ieri perché è saltata la corrente nella mia zona, tutta la mia zona, quindi tempo stavo per andare in diretta, no, per oggi alla grande. Allora, io aspetto innanzitutto, ho avuto questo attimo di vuoto mentale, aspetto innanzitutto che vi colleghiate, oggi un tema molto importante perché parliamo della fine del lockdown in termini di amore, quindi persone che si ricongiungono ai propri fidanzati, ai propri amici particolari, ai propri frequentanti, frequentanti è un termine osceno, però fa capire un po' l'idea, e mi vedo un po' sfocata, quindi potrebbe essere che abbia lo schermo sporco, non sarebbe, scusate, faccio una cosa oscena, che dovrebbe fare mai, mi sembra uguale, per cui è tutto a posto, però ho rovinato il telefono, molto bene. Allora, ciao Lucia, grazie, quindi oggi parliamo di questo tema perché ovviamente il 4, sappiamo tutti, insomma, il 4 maggio si sono riaperte le case con delle modalità responsabili, ovviamente, questa disposizione non riguarda ovviamente le persone che hanno i propri congiunti in regioni diverse, ovviamente mi dispiace, però anche per voi arriverà il momento, quindi in realtà questa diretta va bene proprio per chi ha un fidanzato, una frequentazione, un'amicizia, un'amante, quello che volete, però con il quale o con la quale non convive. Allora, grazie, grazie ragazzi, grazie mille, è il rossetto che fa un sacco scena. Allora, innanzitutto vorrei sapere come state e vorrei sapere anche come sta andando perché so di tantissime persone che non hanno tutta questa voglia di tornare alla normalità. Io francamente non vedo l'ora, però mi rendo conto che 55 giorni, chi più chi meno, poi in Veneto siamo partiti abbastanza presto di reclusione, siano importanti e creino anche delle abitudini, quindi queste abitudini poi si faccia fatica anche a cambiarle. Quindi tutto il tempo che ci siamo presi per noi può essere stato, e spero sia stato, molto produttivo. A inizio quarantena avevo fatto una diretta su come riuscire a usare questo tempo al meglio per voi stessi, quindi mi rendo conto che alcune persone l'hanno fatta, l'hanno fatto talmente bene che adesso tornare alla normalità possa fare paura. Ragazzi, questo non è un periodo normale, io ve lo ripeterò tante volte nel corso di questa diretta e deve finire, deve finire perché deve ripartire tutto, la nostra vita, le nostre amicizie, il nostro lavoro, ci sono persone che saranno ferme fino a giugno, quindi deve ripartire, possiamo godere al massimo di quello che abbiamo vissuto, possiamo trasformare tutta questa quarantena nel periodo anche più formativo della nostra vita. Io non ho mai lavorato così tanto come adesso, non ho mai prodotto contenuti e pensato a cosa potesse esservi utile come adesso, c'è l'idea di un secondo libro, c'è nata la masterclass, quindi vorrei che anche per voi fosse stato così produttivo questo blocco, il fatto di poter, siccome noi non possiamo controllare quello che ci è successo, però possiamo trasformarlo nell'opportunità migliore per noi. Quindi spero che sia stato così, nel caso in cui doveste avere paura di tornare alla normalità, quindi perdonatevi anche, accettate il fatto che possiate essere intimoriti, però con la consapevolezza che non poteva durare e per fortuna non durerà ancora per molto. Quindi, quanti. Allora, tu devi aspettare perché si tratta di Londra, si devi aspettare, però comunque a un certo punto arriverà il momento in cui ti ricongiungerai e quindi questa diretta va bene anche per te. Le tue dirette mi hanno illuminato, grazie. Ieri, peraltro, questa cosa che non c'era la colla, cioè è saltato tutto nella mia zona, partiti gli allarmi, un casino, la gente mi scriveva, dove sei? Cioè, sono in astinenza. Ragazzi, calma, non dipende da me. E quindi possono esserci, insomma, degli imprevisti. Allora, io direi di iniziare. Io ancora non ho visto il mio lui perché non avevamo ben capito i termini del decreto e abitiamo a 30 chilometri di distanza, non volevamo rischiare. Mi mancherà la quarantena perché ho lavorato tanto su di me. Aspetto sabato la masterclass, grande. Allora, la masterclass, ragazzi, è una bomba. Peraltro, abbiamo veramente, cioè, tipo, nelle prime 24 ore, cioè, è successo veramente un caos, il sito è crollato. Cioè, veramente, grazie, quindi veramente grazie perché l'avete presa in tanti e veramente grazie. Sarà bellissimo. Per me la produttività è coinciso col tempo libero mai avuto sul serio così sgombro. Sì, tanti di noi hanno dovuto fermarsi sentendosi anche in colpa. Ho fatto prima una consulenza con una ragazza che mi ha detto, sì, in effetti io quando mi fermo mi sento in colpa. Quindi il fatto di essere stata costretta a fermarmi ha fatto sì che questo senso di colpa scomparisse perché non potevo fare altro. Ma noi, specialmente noi donne, che siamo abituate a lavorare tanto, che non siamo mai ferme, che abbiamo mille impegni, l'ozio è un vizio. In realtà, ragazzi, l'ozio non è un vizio. L'ozio è il padre di tutti i vizi, non è vero. L'ozio è fondamentale, primo, per ricaricare le energie. Due, e soprattutto due, perché decidere che ci meritiamo il riposo è una decisione. Quindi stiamo facendo qualcosa, ci stiamo riposando. E lo dico, insomma, ci ho lavorato molto anche su di me perché la domenica sul divano mi sentivo tremendamente in colpa di non star facendo niente. Invece stavo facendo, mi stavo riposando. Quindi anche il tempo di prenderci cura di noi, il tempo di sgombrare la testa, il tempo di farci una coccola, guardarci una serie tv, un film, è fondamentale quel tempo lì. Non è tempo perso, è tempo investito. Allora, dai, iniziamo. Cosa succede adesso? Succede il fatto che riaprono, quindi chi abita nella stessa area ragione è chiaramente più fortuna di rivedersi con delle persone importanti. Non farò distinzioni tra fidanzato, amante, tromba amico, frequentante. Quanto brutto è questo termine. Però diciamo che questa cosa qua è un po' generica perché può valere un po' per tutti. Cioè voi incontrerete, voi avrete avuto a che fare, anzi con due tipologie di persone in questa quarantena. Persone che si sono fatte sentire molto molto meno e persone che si sono fatte sentire molto molto di più. È difficile che ci sia stato un equilibrio tra il prima e il durante la quarantena. Perché? Perché essendo la nostra vita cambiata è difficile che una persona che prima lavorasse otto ore al giorno a inizio quarantena e durante tutta la quarantena vi abbia dedicato lo stesso tempo. Può essere che si sia allontanato. Allora, può essere che si sia fatto sentire di più. Partiamo dal primo caso. Vi spiego poi perché vi sto facendo questi due casi. Perché a seconda dei casi c'è anche un modo diverso di affrontare la situazione e ci sono anche degli atteggiamenti che sono comuni ai due casi che è il caso, madonna che gioco di parole, che teniamo a mente. Allora, se lui non si è mai fatto sentire o si è fatto sentire molto poco è probabile che a quest'ora già lo abbiate mandato a quel paese. Però c'è una cosa che io devo dirvi di cui ne ho parlato anche alla lezione gratuita della masterclass che ho fatto sabato. Cioè il fatto che l'uomo che è governato dal testosterone il testosterone sia un ormone che è quello che regola il successo il raggiungimento degli obiettivi. Cioè quando un uomo raggiunge degli obiettivi sprigiona testosterone. Il testosterone nell'uomo in quantità non eccessive fa abbassare i livelli di cortisolo quindi i livelli di stress. Cosa succede? Il testosterone si produce anche facendo sesso facendo sport guardando sport producendo risultati facendo soldi raggiungendo obiettivi essendo in competizione quando noi competiamo con qualcuno competiamo? Vabbè quando noi siamo in competizione si competiamo in Italia dai Mary forza si vede che sono due mesi che io parlo solo con il mio fidanzato e con un bambino di tre anni e mezzo non so più parlare e quindi il fatto che il fatto che è vero però il fatto che siamo in competizione con qualcuno questa cosa libera testosterone ovviamente anche nelle donne solo che nelle donne il testosterone non fa sempre benissimo negli uomini si nelle donne la produzione più ampia di estrogeni fa molto meglio ma stiamo nella nel basico proprio nell'ipersemplificazione in questi mesi ragazzi gli uomini non hanno prodotto granché di testosterone la maggior parte dei casi quindi cosa succede? che sono molto più stressati e succede anche un'altra cosa che per l'uomo guadagnare soldi è una cosa completamente diversa rispetto a una donna una donna se è competitiva se è abituata a fare un lavoro a risultato è interessata ai soldi certo che si non è che la donna non sia interessata ma assolutamente si però in forma diversa cioè non le dà la donna quell'eccitazione sessuale che dà l'uomo la donna non dà quel brivido di adesso mi sento realizzata per la donna la parte economica è importantissima ma non è vitale cioè chiaro che poi se una sta morendo di fame diventa vitale ma si parla di una donna che guadagna uno stipendio normale e decide che vuole guadagnare di più ce ne sono ma non hanno la stessa reazione che hanno nell'uomo questa cosa un uomo senza un lavoro è un uomo che è disperato nel sapere chiaramente sto generalizzando grazie non sarà così per il 100% però è molto comune questa cosa un uomo che non riesce a raggiungere degli obiettivi considerato che l'uomo funziona molto a risultato è come una donna che non si sente amata cioè qualcosa che è veramente impattante nella psicologia della persona un uomo che in questo periodo ha perso il lavoro o sta guadagnando meno o è fermo con l'attività è sottoposto a uno stress psicologico maggiore rispetto che la stessa situazione la vivesse una donna questo vuol dire che una donna è tranquilla e felice senza lavoro no ovviamente no ma vuol dire che nell'uomo ha un impatto diverso perché? perché nell'uomo ha un impatto più egoico più relativo al proprio ego ricordiamoci per chi ha seguito la lezione gratuita della masterclass che l'uomo per millenni ha provveduto al benessere della propria famiglia come? lavorando e portando a casa un risultato quindi il fatto che adesso non possa farlo questa cosa ha un impatto per il proprio ego che è molto 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 più forte una donna dice vabbè dai sti cazzo è un lavoro adesso mi rimbocco le maniche trovo qualcosa anche se non è il mio stesso livello cioè il mio livello del lavoro precedente insomma in qualche modo mangio per la donna è più leggero questo pensiero non vuol dire che non sia importante è un po' più leggero per l'uomo è qualcosa che è relativo che è strettamente correlato al proprio valore quindi un uomo che in questo momento non sta lavorando o che sta lavorando meno o che sta producendo meno risultati o che sta producendo meno soldi è un uomo che dal punto di vista di valore personale o meglio la percezione del proprio valore personale ha veramente delle difficoltà ha avuto un grandissimo scossone quindi se un uomo in questa quarantena si è fatto sentire molto meno e magari voi l'avete mandato a quel paese perché perché la donna ragiona come ragiona lei questo è il grande errore della comunicazione sia maschile che femminile ma prettamente femminile cioè io al suo posto mi sarei fatto sentire di più perché perché santo cielo hai un sacco di tempo libero perché non ti fai sentire santo cielo siamo a casa non ci mando a fare niente approfittane per costruire una relazione con me per migliorare la relazione tra di noi approfittane per conoscermi meglio approfittane per creare una base solida così ragiona la donna se non ho da pensare al lavoro posso concentrarmi nelle mie relazioni ricordiamoci che una donna sviluppa la propria concezione di valore attraverso le relazioni attraverso l'amore che dà e attraverso l'amore che riceve attraverso i suoi cerchi sociali l'uomo no l'uomo esprime anzi l'uomo forma il proprio valore personale attraverso gli obiettivi e i risultati che raggiunge quindi siamo diversi quando noi pensiamo vabbè però io mi sarei fatta sentire avrei passato le giornate al telefono con te d'altra parte non ci abbiamo niente da fare una donna sta pensando con la sua psicologia con la sua testa un uomo no un uomo no un uomo probabilmente è triste è sconfortato si sente in qualche modo frustrato perché non riesce a produrre dei risultati che è come se una donna non si sentisse amata la quantità di sconforto è praticamente la stessa in una donna che non si sente amata in un uomo che non riesce a produrre dei risultati siamo diversi più noi capiamo le differenze più queste differenze non ci allontanano ma ci uniscono motivo ragazzi per cui ci ho creato una masterclass su queste cose allora beh Mary può essere il fatto che avendo un lavoro magari competitivo tu abbia prodotto molto molto testosterone o molta molta energia maschile quindi ci sta questa cosa anche a me piace guadagnare però diciamo che se io devo pensare a una generalizzazione non è così per tutte anzi la maggior parte non ragiona così quindi devo devo fare un discorso un po' più generico è chiaro però che una donna può anche essere citata nel guadagnare di soldi ma è difficile che il suo valore personale non sia relativo alle relazioni sociali quindi tu puoi anche non volere un uomo ma questo non vuol dire che tu non voglia delle relazioni sociali le relazioni sociali non sono solo date da quanto facciamo sesso o quanti corteggiatori abbiamo ma anche dalle persone che ci sono vicino dalle nostre amiche dalla nostra famiglia le relazioni sociali per le donne sono estremamente 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 importanti poi la masterclass vi insegno e anche al corso come riequilibrare con delle lezioni pratiche i livelli nostri di estrogeni per stare meglio una donna ricordiamolo con alti livelli di testosterone è una donna che non è portata a chiedere aiuto è una donna che tende a considerare i propri fidanzati degli imbecilli perché lei sa fare tutto lei è wonder woman lei è bravissima è una donna che attira degli uomini con una bassa energia maschile perché lei ne ha in abbondanza è una donna che poi nel tempo è portata a fare sempre meno sesso con il suo partner quindi ci sono anche dei modi per riequilibrare con delle lezioni pratiche molto semplici la nostra parte di estrogeni e la parte maschile di testosterone poi allora no non è che sono molto basici purtroppo gli uomini che sono diversi poi hanno un modo di comunicare più semplice non più basico più semplice però sono diverse quindi cosa succede che quando noi accusiamo lui che non si è fatto sentire abbastanza in questa quarantena e magari nel frattempo lui sta perdendo il lavoro ha perso il lavoro o un'attività improprio che non sta andando o fa smart working e gli hanno abbassato lo stipendio non so se sia possibile abbassare lo stipendio però magari è nato in casa integrazione non lo pagano cioè una serie di dinamiche in questo caso siamo noi che stiamo sbagliando perché non stiamo riconoscendo nella critica che gli facciamo di non essersi fatto sentire non gli stiamo riconoscendo la possibilità di poter essere diverso da noi quindi quando noi ci lamentiamo eh ma non ti fai sentire abbastanza ma vorrei che ti facci sentire di più oltre ad essere insopportabilmente lagnose e lamentose per cui il cervello dell'uomo si chiude siamo anche poco empatiche perché non riusciamo a capire la differenza sostanziale è una delle differenze sostanziali tra uomini e donne e quindi pretendiamo che come ci comporteremmo noi avrebbe dovuto comportarsi anche lui questa è una follia ma anche se l'uomo ragiona così su una donna è una follia siamo diversi ragazzi più accettiamo le nostre differenze più andiamo d'accordo e ci capiamo poi c'è il secondo caso c'è un uomo che si è fatto sentire tantissimo e noi abbiamo molto apprezzato questa cosa si è fatto sentire tantissimo perché? perché magari lavora smart working perché magari il suo stipendio non ha subito nessun tipo di cambiamento perché magari è assunto perché magari la sua azienda non ha dovuto fare grandi cambiamenti perché magari ha un'attività online e quindi di fatto guadagna esattamente come prima perché è riuscito magari a rendere automatiche le sue rendite non lo so fa delle cose online per cui gli entrano i soldi un e-commerce eccetera eccetera perché magari di fatto ha magari un'energia un po' più femminile quindi di fatto questa cosa si l'ha un po' sconvolto però neanche tanto da cambiare le sue abitudini quindi si fa sentire ancora più di prima perché? perché magari a più tempo questa cosa non l'ha sconvolto più di tanto non sono cambiati i suoi meccanismi e quindi di fatto si fa sentire talmente tanto da aver soddisfatto le nostre aspettative in questo caso ragazze è difficile che duri quindi io vi devo preparare vi voglio preparare il fatto che potrebbe non durare quando questa cosa cambierà perché tornerà a pieno regime nella sua attività e nel suo lavoro voi non dovrete usare questo tempo come termine di paragone questo ve lo dico e ve lo chiedo di non farlo se riuscite cioè eh ma tu in 40 anni facevi un sacco sentire adesso no è diverso questo tempo questi 55 58 per alcuni 50 giorni nei quali siamo stati isolati non sono la normalità e non sono un tempo e non sono un periodo da prendere in considerazione per crearci una una stabilità perché non lo sono di conseguenza se lui domani ricomincerà a lavorare e non avrà il tempo da dedicarci è normale perché vi sto dicendo queste cose uno dice vabbè ok però magari a parte la parte ormonale che la sanno in pochi non mi sta dicendo niente di sconvolgente no è vero però vi sto cercando di evitare di essere particolarmente esigenti una volta che si ritorna alla normalità questo io veramente vorrei che lo evitassimo sempre perché facciamo l'errore di pensare che l'altro debba essere completamente allineato alla nostra mentalità e siccome io e le mie amiche facciamo così automaticamente anche lui dovrebbe fare così questa cosa ragazzi non esiste io ve lo dirò sempre vi ribadisco che ho fatto una masterclass per questo motivo faremo milioni di esempi capiremo come far sì che un uomo sia più predisposto a chiederci scusa faremo degli esempi pratici come noi abbiamo bisogno di chiedere aiuto perché non siamo wonder woman e ci sono tante cose un sacco pratiche anche sulla seduzione sulla comunicazione però al momento la cosa importante è che quando vi rivediate portiate nella sua vita e nella vostra perché noi siamo molto anche noi donne umorali e cambiamo a seconda anche di come cambia l'altro quindi siamo molto più propense a oscillare dal punto di vista umorale a seconda delle risposte che riceviamo dall'esterno e questa è follia adesso vi spiego perché me lo scrivo perché si chiama controllo e adesso faremo un discorsetto sul controllo e di conseguenza qualsiasi sia stata la vostra situazione durante il lockdown io vi consiglio di mettere tutto da parte e capire che nel caso in cui lui si sia fatto sentire molto meno non è una colpa da attribuirgli ma è semplicemente da capire che questa situazione non è normale e allora cosa faccio magari vado lì e mi butto e dopo magari invece lui non è più interessato allora innanzitutto non è che la vita sia tutto bianco o nero questo ve lo dico perché io ero una di quelle così ma nella vita c'è una cosa bellissima che si chiama aspetta donna tu che sei così bisognosa di risposte aspetta perché perché tu puoi vederlo puoi essere contenta di vederlo puoi non passare il primo giorno dopo 50 giorni che non lo vedi a rinfacciargli tutte le mancanze che tu hai sentito non fatelo ragazzi specialmente se lui si è fatto sentire poco perché se lui già si è fatto sentire poco vuol dire che era preoccupato per la situazione perché come abbiamo detto non ha portato a casa risultati se anche voi lo fate sentire immeritevole non meritevole e che anche con voi non ha portato a casa un risultato lui non varrà mai più vedervi questo ve lo metto per iscritto quindi evitate questa cosa veramente devo andare lì e far finta di niente no io sono sempre poi per l'autenticità quindi assolutamente no si va lì e si si passa la prima ora a dire quanto sia bello rivedersi quanto siete contenti di vederlo il fatto che adesso avrete molta più libertà quindi non fate programmi e non accusatelo di niente fate sì che voi siate bene che lui stia bene perché è un circolo virtuoso il benessere io ti faccio stare bene così tu fai stare bene a me così io faccio stare bene a te è un circolo virtuoso invece ah lui si incazza e allora voi circolo vizioso uno schifo rovinato tutto quindi cercate di farlo stare bene poi è ovvio che voi dovete dovete esprimere quello che sentite non esiste censurarsi dire no adesso non te lo dico perché sennò tu mi lasci ma te lo dico e come poi se vuoi lasciarmi oh ok però ci sono due modi di comunicare ve lo ricordo uno giusto non ho sbagliato quindi se voi iniziate ad essere aggressive lui si chiude la cosa migliore che io vi consiglio di fare è cercare di usare l'empatia e anche parlargli con l'empatia quindi dirgli guarda io capisco che tu sia stato male e capisco il fatto che questo è stato un periodo difficile e mi dispiace tanto per questa cosa a me sarebbe piaciuto viverti un po' di più però mi rendo conto che questa cosa magari per te non è stata possibile e qui ragazzi è fatto un atto di coraggio e di fede è stato in silenzio un secondo a sentire cosa dice lui perché se voi dite un uomo 60.000 parole in un secondo lui manco vi ascolta più perché la comunicazione maschile è estremamente semplice noi parliamo parliamo ore e ore l'uomo no quindi aspettate di capire che cosa vi sta dicendo lui magari vi dice guarda io mi sono reso conto in questa quarantena che non ti amo abbastanza o mi sono reso conto in questa quarantena che sei stata una pigna o mi sono reso conto che voglio stare da solo ok ciao ovviamente ma può essere anche che lui vi dica guarda mi dispiace ma io in questa quarantena sono stato male avevo bisogno di tempo per me qui cosa si può dire una persona uomo o donna che sia che ci fa un discorso del genere se non provare a empatizzare da qui in poi si ricomincia poi e siccome qua siete siamo molto intelligenti non facciamo che fai quello che vuoi e io sono qua come una scema ad aspettarti ma mi do un tempo se entro questo tempo la relazione si sistema un po' inizia a essere più soddisfacente per me bene se no non so da fare però senza partire una base di critica hai fallito mi aspettavo di più da te ricordatevi che se siete deluse di qualcosa vuol dire che a monte c'è stata un'illusione ma l'illusione non è detto che ve l'abbia data lui può essere anche che avevate delle aspettative molto alte quindi c'è da fare un po' una presa di coscienza per capire anche dove siano effettivamente le responsabilità perché magari lui che vi ha illuso tantissimo può essere che vi siate illuse voi che vi siate fatto un film dicendo ah wow adesso siamo a casa passeremo tutto il giorno insieme al telefono su skype sarà il periodo più bello della nostra vita poi quando tutto si riaprirà noi ci sposeremo ok bellezza ve la siete fatta voi però sto film ok quindi a meno che lui non vi abbia detto wow adesso mi farò sentire tutti i giorni passeremo tutto il nostro tempo insieme mangeremo sushi a casa mia a casa tua e poi ci sposeremo nel caso in cui questo non sia successo e dubito che sia successo nel senso altrimenti non sarebbe sparito è probabile che il film l'abbiamo fatto noi e ci sta perché noi donne siamo portate tantissimo a farci film e alle famose malefiche aspettative allora la cosa che ho capito da questa diretta dice Massimo è che bisogna ripassare il video della comunicazione tra uomo e donna di qualche settimana fa Massimo ho fatto una masterclass anzi sto facendo una masterclass ma ho fatto una diretta di due ore due cioè veramente manco un film di Tim Burton ho fatto una diretta di due ore sulla comunicazione uomo e donna la trovate nel gruppo che si chiama Mary G Masterclass è gratuita è libera guardatevela vi prego e parla della comunicazione uomo e donna poi alla fine di questa diretta se volete fare il percorso online che è ogni sabato di due ore sempre sulla comunicazione uomo e donna quindi il percorso intensivo e un capitolo dedicato alla seduzione il pacchetto completo costa 199 euro e comprende tutte queste ore di lezione se no vi guardate la diretta uomo e donna ma guardatevela perché è figa perché vi dà un sacco di spunti qui io non vi sto parlando solo della comunicazione qui vi sto parlando di come affrontare il lockdown chiaro che poi molto riguarda le aspettative la comunicazione quello che ci siamo fatte noi di film il nostro modo anche di empatizzare quindi sono più elementi messi insieme allora se invece si è fatto sentire molto e si è fatto sentire come voi desideravate la cosa importante ragazzi è la gratifica io non parlerò della gratifica oggi perché è un argomento da masterclass perché è impegnativo da far capire come concetto ma quanto sia importante elogiare un comportamento altrui maschile o femminile quando viene fatto qualcosa che a noi ci piace il famoso Pavlov non so se l'ho pronunciato bene che è un psicologo russo che ha fatto il test sui cani molti l'ha studiato anche al liceo nonché all'università parlava di rinforzo positivo quindi quando qualcuno fa qualcosa di bello facciamo sì che se ne renda conto affinché possa ripeterlo ora in modo molto meno macchiavellico in modo molto meno manipolatorio c'è una cosa da dire che se io faccio una cosa e mi viene detto wow questa cosa è molto bella io tenderò a ripeterla perché so che sta facendo piacere all'altro quindi se vogliamo che chiaramente non ci sarà la stessa modalità finito lockdown ma se vogliamo che quella persona capisca che siamo contenti della frequenza in cui si è fatto sentire mettiamoci l'accento su questa cosa che bello sono proprio felice perché in questa quarantena sono riuscita a conoscerti ancora meglio grazie sono davvero felice della quarantena che abbiamo passato perché mi hai fatto stare molto bene grazie perché ho confermato i miei sentimenti per te sei stata insieme quindi ho capito di amarti ancora di più cioè il fatto di fargli capire quanto per voi sia stata importante la sua presenza sono le 12 sì stavo parlando mia roba sono le 12 sì sono le 12 quindi ragazzi questo è importante vi ho fatto un primo mini discorso sul controllo cioè che cos'è che possiamo controllare noi questo ve l'ho già detto un po' di volte ma ve lo ridico ci sono tre tipi di aspetti che che riguardano il controllo tutto quello che riguarda zero controllo cioè avvenimenti su cui noi non abbiamo il minimo controllo ad esempio il fattore meteo pandemie mercati moda tutto ciò che anche se noi ci impegniamo tanto non possiamo controllare in nessun modo ci sono cose su cui noi abbiamo un controllo parziale ad esempio il nostro rapporto con gli altri quindi io e te stiamo insieme tu mi lasci e io ti faccio vedere che sono nella tua vita posso controllarla questa cosa somma perché perché poi l'altro deve decidere quindi il nostro rapporto con gli altri è un rapporto dove spessissimo noi non abbiamo nessun tipo di controllo o meglio abbiamo il controllo di quello che noi diciamo né di quello che l'altro percepisce né della risposta dell'altro e poi ci sono le cose su cui noi abbiamo il pieno controllo che sono quelle che riguardano esclusivamente noi sulla nostra comunicazione noi abbiamo il pieno controllo sul poi pieno nì nel senso che poi dipende anche molto dai fattori emotivi però abbiamo un ottimo controllo su come noi reagiamo a ciò che ci succede come noi reagiamo alle nostre emozioni lui mi lascia io posso decidere se ammazzarmi o trovare la lezione della vita scoprire il fatto che lui mi ha lasciato però attraverso questo fatto doloroso io riesco a capire che sono una persona comunque di valore riesco a trarre un insegnamento positivo perché come vi ho detto miliardi di volte nella vita non esistono esperienze negative ma esistono esperienze o formative o vincenti di conseguenza se io riesco a trasformare il dolore riesco anche a imparare delle lezioni ma sono io che lo decido sono io che decido se piangere vent'anni e pensare che lui sia uno schifo o che io sono una persona di poco valore o se dico ok mi ha lasciato cosa posso imparare da questa storia io lo decido io ho il controllo di questa cosa quindi questo per dirvi cosa che voi andate lì ma non avete nessun tipo di controllo sul suo stato d'animo su quello che è successo a lui e ve lo dico perché impariate a lasciare andare quello che non è il vostro controllo io quando faccio le consulenze con le mie clienti la prima cosa che dico parlando di controllo è ogni volta che ti capita qualcosa devi chiederti di questi tre elementi cioè zero controllo controllo parziale controllo totale in questa situazione che ti è capitata quanto controllo hai che situazione è e in questo modo impariamo a lasciare andare noi su che cos'è che abbiamo il controllo sul fatto che ci possa stare bene o no un determinato tipo di atteggiamento possiamo scegliere se ci piace o no invece molto spesso siamo in balia di quello che decidono gli altri allora voglio leggere un po' di commenti le aspettative sono uno dei cinque errori che commettono le donne sempre imparato dai tuoi video non so se ne ho fatti cinque di errori bah si era uno degli errori più comuni delle donne in amore se si è vero è vero grazie che mi ricordi quello che io dico così però si è uno degli errori principali ma c'è un modo e questo lo vediamo alla masterclass di abbassare non abbassare le aspettative di controllare le aspettative cioè un conto è oh sogno questa cosa perché il sogno mi fa stare bene un conto è che io proietti sull'altro le mie aspettative ci sono degli esercizi che vi farò fare alla masterclass per imparare ad abbassare questa aspettativa folle che poi il nostro cervello non capisce che è un'aspettativa ma pensa sia un ricordo e qua la chiudo e la vediamo alla masterclass ogni donna è una piccola succursale di hollywood in fatto di film sì ma ci allenano così fin da bambine ma poi c'è anche una questione biologica cioè la donna ha bisogno di verbalizzare ciò che sente ha bisogno di pensare a ciò che ha vissuto ha bisogno di riviversi le emozioni perché la donna vive di emozioni e la donna vive di amore quindi il principio del maschio utile della donna madre abbiamo già parlato alla diretta quella gratuita sulla masterclass ce l'abbiamo già parlato quindi è importante che noi continuiamo a ricordarci questa cosa qua ed è importante il fatto che smettiamo di pensare come avremmo reagito noi e portarlo all'altra persona perché questo crea un sacco di problemi è come se un uomo si aspettasse che noi donne parlassimo con il suo stesso registro comunicativo mi faccio una cosa stupida ero con Francesco in cucina un giorno Francesco perché non lo sapesse è il mio compagno da nove anni e il papà del nostro bambino e insomma a un certo punto io inizio a parlargli e come tutte le volte in cui io non penso a come devo comunicare con lui mi faccio prendere perché non è che sto sempre a pensare quale sia la comunicazione giusta o sbagliata c'è un sacco di cose le ho apprese un sacco di cose le ho automatizzate un sacco di cose no quindi devo proprio pensarci quella volta li non pensavo e gli ho dato cinque comandi insieme cioè comandi sembra un cane nel senso comandi nel senso cinque cose da fare insieme quindi lui mi ha detto Mary che cosa c'è da fare era un weekend cosa c'è da fare e io gli ho detto scusami non abbiamo la donna delle pulizie perché quarantena e non abbiamo più nessun aiuto quindi gli ho detto guarda fra io faccio questo 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 tu fai questo 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 ma glielo ho detto tipo lista della spesa mettendoci in mezzo anche dei periodi cioè tipo allora guarda fra adesso ve la faccio così ma non è stata esattamente così ma per farvi capire allora guarda fra ti ricordi che ieri ti dissi che c'era l'erba da fare ok aspetta a fare l'erba c'è da prima da fare da buttare fuori l'umido ok quando hai buttato fuori l'umido poi secondo me ci sarebbe il tetto però non proprio adesso il tetto non è proprio il tetto però è meglio cioè una donna quando io parlo così cioè quando apro tante parentesi una donna mi segue perfettamente perfettamente adesso così ve l'ho fatta esagerata ve l'ho fatta incasinata ma per farvi capire quando noi donne diciamo eh ti ricordi Giulia Giulia che è l'ex di Marco Marco è quello con cui ho fatto le elementari comunque Giulia l'ho incontrata ieri e l'ho trovata molto bene è stata da un parrucchiere che mi ha consigliato ho preso appuntamento sabato per farmi la tinta la tinta ti ricordi quella che avevo tre anni fa delle foto è proprio quella ok ed è la stessa tinta che mi ha consigliato mia madre quando stavo insieme al suo ex compagno il suo ex compagno quello che mi ha detto una donna riesce a seguire questo discorso adesso ve l'ho fatto veloce ve l'ho fatto eccessivo ma riesce a seguirlo un uomo no un uomo si è perso il parrucchiere cioè perché mi hai aperto otto periodi diversi otto perché perché l'hai fatto perché perché un uomo va a frasi quindi Francesco oggi ho bisogno che tu tagli l'erba punto mentre io faccio il bucato perché se ti ricordi mi hai messo a lavare delle mutande che però invece che venire fuori bianche sono venute fuori rosa perché di fatto non so farle lavatrici e no sono informazioni che un uomo non servono nell'azione servono nel chiacchierare possono fargli piacere dopo 5 minuti non vi segue più questo ve lo dico per informazione ma quando dobbiamo comunicare cioè comunicare che cos'è ragazzi ti parlo affinché ti arrivi un messaggio quindi non è il chiacchiericcio non è il gossip ma è un messaggio c'è da fare questo questo e questo ok quindi con l'uomo l'uomo non può dirmi ah Mary c'è da buttare la spazzatura a fine perché io gli dico ma che modo di merda in cui me l'hai detto e lui dice scusami amore potresti buttare la spazzatura a luce dei miei occhi cioè capite nel senso sto sempre ironizzando sto sempre esagerando ma per farvi capire poi alla masterclass io farò degli esempi esempi concreti con delle slide per cui non andrò a caso però per farvi capire che siamo diversi e che io non posso pensare di comunicare come comunico con le mie amiche con un uomo e un uomo non può pensare di comunicare con me come comunica con un suo amico perché per me la conversazione è sterile è priva di poesia è priva di romanticismo è priva di sentimento è troppo concreta è chiaro che se tu mi dici devi fare questo ok ma se tu mi parli sempre così io donna mi sento non importante e quindi succede la non importanza femminile si traduce in un sacco di altri problemi quindi amici io oggi anzi ieri vi avevo detto vi ho scritto su instagram nelle storie di instagram ho scritto com'è com'è andata questa quarantena e i messaggi che mi sono arrivati sono stati a un buon 90% un disastro perché la persona che avete accanto che state conoscendo non ha corrisposto alle vostre aspettative allora in questo caso primo c'è da farsi una presa di responsabilità nel senso siete rimaste deluse la delusione avviene a fronte di un'illusione chi è che è illuso chi perché a volte dire ok io mi sono illusa da sola è un modo anche per responsabilizzare noi stessi e de-responsabilizzare l'altro e quindi non accanirci ma dire ok mi sono fatta un film magari faccio la masterclass di Mary così capisco come piantarla di farmi 6 milioni di aspettative però ok me la sono creata io quindi questo secondo me è il primo passaggio poi capire molti hanno detto no però io non potrò ancora vederlo e sono molto triste ok è normale che siate tristi se state in regioni diverse però finirà anche questo cioè non buttate nella storia la lamentela buttateci se volete il dolore sono due cose diverse non buttateci la lamentela il dolore è io ti chiamo piango perché dico caspita ti amo oppure caspita non vedevo l'ora di vederti perché la nostra storia andava bene ci stavano conoscendo bene adesso c'è questa cosa un momento di down perché è umano che è diverso da ecco non possiamo vederci che palle chissà quando ci vediamo cioè il dolore va bene ok poi chiaramente dipende da quanto vi conoscete che tipo di rapporto avete la lamentela no quindi tante persone sono rimaste deluse dall'ultimo dall'ultimo decreto tante persone volevano altre cose ragazzi ci sta io sono molto arrabbiata per il modo in cui non stanno pensando i bambini ad esempio quindi ognuno ha il suo modo di lamentarsi d'altra parte io non potrei fare questo lavoro quindi spero di essere in mani adatte non voglio aprire un dibattito politico però ognuno ha la sua parte di lamentela ci sono le aziende alcune aziende chiuse quindi ci sono persone che si lamentano per questo le mamme che si lamentano per i figli perché sono stati completamente abbandonati i bambini una roba oscena ci sono persone che i parrucchieri giustamente fanno la loro battaglia ognuno fa le sue però all'altro portiamo piuttosto il nostro malessere non la nostra lamentela perché il malessere può essere condiviso la lamentela l'uomo fa molta fatica a comprenderla questo vi dico come consiglio poi ragazzi sappiamo sappiamo benissimo che non durerà questo io ve lo dico quindi cerchiamo anche di passare gli ultimi momenti a fare le cose che poi non potremmo fare e questo secondo me è il miglior modo per passare il tempo cos'è che tra un mese quando ritornerò nella routine quando continuerò ricomincerò a essere super stressata quando avrò 6.000 cose da fare mi riempirò l'agenda non potrò fare ok lo faccio adesso quindi le chiamate che magari non avremmo voglia di fare le attività che non avremmo voglia di fare fare full immersion dei nostri che ne so cibi preferiti o serie tv preferite perché tanto sappiamo che tra 20 giorni la smetteremo di mangiare come fa Coceri quindi anche cose insomma che possono farci bene è molto importante questa cosa allora voglio leggere un po' di commenti vostri parliamo di aspettative Mary ci puoi dire come affrontare il primo incontro reale con una persona con cui la frequentazione è iniziata virtualmente bravissima questo era il prossimo tema che avrei fatto dopo le risposte ma te lo ti rispondo adesso allora vi siete conosciuti virtualmente quindi di fatto avete passato un periodo che va da uno o due mesi a chattare il primo incontro ragazzi deve essere allora qual è il problema il problema delle chat è un se volete ne parliamo bene domani di questo però un problema grosso delle chat è che nelle donne creano un sacco di aspettative romantiche perché perché la chat ha il merdoso potere di amplificare i sentimenti quindi se io chatto con una persona e sto bene quel bene diventa un bene più se io parlo con una persona e mi sento trasportata quel trasporto diventa un coinvolgimento quasi emotivo cioè la chat amplifica è il vissuto che spesso rende più razionale la cosa perché magari vivere una persona non ci piace proprio tutto perché magari fa delle cose che non ci vanno bene la chat invece è proprio il meglio di noi buttato lì peraltro in chat mancano completamente il linguaggio non verbale quindi il capire guardare una persona vedere semente attraverso dei segnali e in più ci manca completamente il toccare quindi la parte fisica che è importantissima capire come stiamo noi a contatto con quella persona quindi la chat amplifica molto io il consiglio banale che ti do adesso ma se vuoi ne parliamo domani domani possiamo fare una diretta un po' più breve sugli amori nati in chat me lo scrivo post quarantena perché siete tante e allora non mi va di perché adesso che ci sto pensando sono in mente anche altre cose non mi va di chiuderla in cinque minuti mi va di farci dedicarci un po' più di tempo e quindi la cosa che io ti consiglio di andare là dove è di pensare che tu stia conoscendo una persona cioè non stai andando lì per fidanzarti non stai andando lì per iniziare una storia d'amore non stai andando lì perché ti stai ricongiungendo all'uomo della tua vita stai andando lì perché stai conoscendo realmente una persona che hai conosciuto nel virtuale il virtuale è quasi cos'è il virtuale è una cosa aleatoria di conseguenza vai lì per conoscerlo continua a pensare io voglio conoscerlo che non vuol dire io voglio piacergli quindi non devi fare lì tutto perché tu piaccia a lui ma devi capire se lui piace a te vai lì per capire può andare bene e può andare male fa parte del gioco non ci sono sentimenti coinvolti te lo dico perché quello che tu senti adesso è il fatto di esserti aperta di esserti confrontata aver riso con una persona che di fatto però non conosci cioè la chat mischia soprattutto la chat fatta per tanto tempo mischia le fasi cioè prima c'è una fase di conoscenza e poi c'è una fase di scelta ovvero quello il contrario di ciò che dovrebbe succedere nella vita normale dove prima scegli e poi conosci di questo ne parliamo domani perché ci sono delle cose che devo dirvi su questo quindi io quello che ti consiglio se lo vedi stasera di conseguenza non puoi seguirti la diretta di domani è vai lì come se lo stessi semplicemente conoscendo e devi arrivare a casa la sera il tuo obiettivo non è quello di avergli detto le parole d'amore non è quello di averci fatto l'amore non è quello di averlo baciato poi se capita come vuoi tu ma arrivare a casa dicendo ok confermo o non confermo le sensazioni della chat se vi vedete vuol dire che le sensazioni sono state positive quindi devi capire se vuoi confermarle questo è il mio consiglio allora l'unica cosa dice luigi vera essere se stesse tutto andrà bene affronta le conoscenze con serenità al primo appuntamento se deve andare va calma e sempre essere se stesse ciao a mary si parliamo nei domani che devo anche io incontrare per un caffè un uomo che sento in chat dal 25 febbraio dal 25 febbraio è un fidanzamento quanto tempo è passato e cosa fare se lui è sparito dopo averti cercata sempre per primo e dopo esservi messi d'accordo per vedervi conoscenza venuta virtualmente non fa assolutamente niente perché le conoscenze virtuali valgono come come veramente poco anche se poi noi diamo un significato a queste cose ma contano poco ragazzi quindi lui ti ha sempre cercato perché lui era interessato a cercarti poi ha smesso di essere interessato può essere subentrato un'altra persona possono essere subentrati dei problemi suoi e come dicevo all'inizio di questa diretta i problemi dal punto di vista maschile legati al guadagno al successo agli obiettivi sono molto impattanti può essere che chi se ne frega perché perché tanto è uno che è conosciuto in chat cioè non diamo alla chat una responsabilità la chat è la pre la pre prescelta cioè qualcosa che noi facciamo per riconoscere un'altra persona ovvio che in una condizione di normalità noi non saremmo stati probabilmente due mesi a chattare con questa frequenza e con questa intensità quindi mi rendo conto che io non possa uscirmene dicendo vabbè ma chi se ne frega nel senso che per te può essere svilente mi dispiace per questo ma devi dare alla chat il ruolo che merita una chat si parla di corteggiamento si parla di interesse si parla di aspettative dopo che lo abbiamo conosciuto dal vivo non prima prima è un sogno prima è una realtà parallela che non esiste più siamo razionali in chat più dopo tutto quello che ne deriva l'incontro non l'incontro ci piacciamo non ci piacciamo riusciamo a razionalizzarlo un po' di più per chat si intende anche siti di incontro si si chat può essere messenger uno che ti aggiunge su facebook o tinder quindi anche tutte quelle che riguardano le dating app grazie infinite per la risposta per fortuna è di un'altra regione quindi potrò seguire la masterclass prima di vederlo yeah fondamentale la masterclass ragazzi per queste cose mi ha fatto un pacco di cose dolci per Pasqua e me l'ha spedito oddio che dolcezza questo è quello del 25 febbraio super dolce però Cecilia aspetta l'hai conosciuto prima o no non mi ricordo più l'hai conosciuto prima o l'hai conosciuto solo in chat l'avevo letto però poi ho letto altro comunque super dolce ma se l'hai conosciuto solo in chat super dolce punto non super dolce wow nascerà una storia d'amore ma diamogli il merito di aver fatto una cosa super super carina ragazzi noi ci sentiamo domani sempre alle 11.30 parliamo degli amori nati in chat in quarantena ormai per ogni argomento c'è il filone c'è tipo lo spin off quarantena e sarà una diretta un pochino più breve sicuramente ieri mi ha detto mio amico mi fa io seguo sempre le tue dirette perché poi dici che domani sarà più breve e dopo leggo sopra 59 minuti di diretta non hai bene il concetto di breve sono una donna ragazzi la donna non ha il concetto di breve come ce l'ha l'uomo io ricevo messaggi vocali dalle mie amiche che durano anche 20 minuti e mi dicono scusa cercherò di essere sintetica scritta poi 20 minuti di vocale le donne non hanno il concetto della sintesi quindi portate pazienza noi ci sentiamo domani so che vedo qua i messaggi di messaggio mi state scrivendo un sacco di cose sulla masterclass io adesso sento Stefano che lavora con me per capire quanti post sono rimasti penso molto molto pochi ve lo dico ma molto molto pochi però se avete bisogno di informazioni ditemelo comunque guardatevi la diretta che dura due ore lì non volevo essere sintetica lì volevo essere esaustiva che parla di comunicazione uomo o donna e la trovate nel gruppo Mary G Masterclass quindi dovete scrivere su google Mary G Masterclass centrate e aperto e in alto è fissata la diretta se avete delle informazioni mi scrivete in privato ecco si l'hai conosciuto in chat Ceci grande si continua a ripetertelo Ceci mi raccomando rimantieni la razionalità ragazzi ci sentiamo domani vi abbraccio grazie per oggi e a domani alle 11 e mezzo ciao buona giornata grazie a tutti